Onazzi avanza, lancio lungo per Felipe Anderson, tutto solo sulla destra, Felipe mette la quarta, entra in area di rigore, la fitta sull'avversario, rientra, fa la bassa in mezzo, Mauri non ci arriva, poi Onazzi! Il gol! Il gol! Onazzi! Il pareggio della Lazio! Onazzi al ventunesimo sull'assist di Felipe Anderson, ha avuto il tempo di stoppare di petto e poi di prima intenzione di battere Ruffier, 1-1! Due minuti, 18 secondi, 1-1 il risultato, calcio di punizione, in favore della Lazio, Biglia sul punto di battuta, alza la testa, cercherà probabilmente lo spiovento all'interno dell'area di rigore, dove c'è Mauri, dove c'è Milinkovic, dove c'è anche Utt, vediamo Biglia sul secondo palo, il cross in mezzo, esce Ruffier, pallone che resta lì, Utt! E' il gol! Utt! La Lazio è in vantaggio! Keita recupera il pallone, lo gestisce, lo porta avanti nella metà campo del Saint-Etienne, punta l'avversario, arriva fino al limite dell'area di rigore, ancora una finta, entra dentro, Keita fa tutto da solo, il cross in mezzo, attenzione, appiglia, il sinistro e il gol! E andiamo! Bravo! Viva! Non vuol nemmai! Non vuol nemmai! Non vuol nemmai! Non vuol nemmai! Forza Nazione, Forza Nazione, Forza Nazione, Forza Nazione